L'attesa per Sandokan, la nuova serie tv prodotta da Lux Vide e Rai Fiction con Kan Yaman nel ruolo della leggendaria tigre della Malesia, è ormai alle stelle. Il regista Gian Maria Michelini, intervistato in un recente numero di tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato della produzione internazionale e del cast, spiegando le ragioni per cui è stato scelto proprio Kan Yaman per interpretare il celebre personaggio creato da Emilio Salgari. Sandokan, in arrivo su Rai 1, ma niente remake. Quando, circa quattro anni fa, è stato annunciato il progetto Sandokan, molti hanno subito pensato al celebre interprete Kabir Bedi, protagonista della serie degli anni 70. Tuttavia, Michelini ha sottolineato che questa nuova versione non sarà un remake, ma una rivisitazione moderna e fresca della tigre della Malesia, ispirata al ciclo narrativo di Salgari. Il regista ha infatti spiegato che l'obiettivo è quello di raccontare Sandokan a una nuova generazione, cercando di emozionare i giovani spettatori, ma anche di toccare il cuore dei nostalgici. Abbiamo lavorato per tre anni prima di iniziare le riprese, ha rivelato Michelini, chiarendo che l'intento non era certo quello di competere con la serie del passato. Come puoi confrontare un prodotto di tanti anni fa con uno di oggi? Il nostro scopo è raccontare una storia attuale e affascinante, senza mai dimenticare le radici del personaggio. Un altro aspetto interessante riguarda il cast. Tra le scelte più particolari c'è quella di Ed Westwick, noto per il ruolo di Chuck Bass in Gossip Girl, che interpreta Lord Brooke. Michelini ha ammesso di non aver conosciuto l'attore prima del suo provino, ma di averlo scelto quando gli è stato fatto notare che fosse proprio lui l'iconico personaggio della serie americana. Sandokan, nessuno poteva farlo se non Yaman. Ecco perché grande protagonista del nuovo Sandokan è Khan Yaman, il divo turco che per calarsi nei panni della tigre della Malesia si è sottoposto ad una dieta proibitiva, allenandosi duramente in palestra, tra lezioni di dizione di lingua inglese per interpretare al meglio il copione, poi equitazione e combattimento. Del resto, le fan di Yaman sanno che, proprio con la promessa di questo ruolo, il divo turco accettò di trasferirsi a Roma in modo definitivo, e quindi che tiene particolarmente a questo progetto. Come detto in precedenza, non sarà un Sandokan che strizza l'occhio a quello di Kabir Bedi, anche se per molti il paragone è inevitabile. Ma perché scegliere proprio Yaman per questo ruolo? A rispondere è il regista Gian Maria Michelini. Beh, solo lui poteva fare Sandokan. Sarà sia un supereroe dotato di bellezza e forza fisica, sia un personaggio scansonato con un lato sentimentale. Insomma, Yaman era l'unica scelta possibile per impersonare la leggendaria tigre della Malesia, frutto della penna di Emilio Salgari. Mentre per il resto del cast ci sono stati diversi provini. Il regista ha ammesso di aver ricevuto come unica condizione quella di scegliere un attore italiano e che la sua scelta è andata immediatamente su Alessandro Preziosi per impersonare Yanez de Gomera. E sembra che questa scelta sia stata azzeccata, dato che tra Preziosi e Yaman, sul quale arriva l'ennesima fake news, hanno legato tantissimo e la chimica tra loro davanti alle telecamere sarà senza dubbio perfetta.